Di nuovo insieme per la nostra rassegna stampa, allora dedichiamoci per un attimo all'ultima ora dal web con alcune notizie che possiamo trovare sul portale ansa.it, parliamo di cronaca, siamo a leggere una notizia che proviene dall'Emilia Romagna, primario aggredito con soda caustica, i carabinieri fermano un indagato, sono i carabinieri del comando provinciale di Modena ad eseguire un decreto di fermo emesso dalla procura della città emiliana nei confronti di un 59enne modenese, D.A. indagato per l'aggressione con soda caustica del 10 novembre a Stefano Tondi, primario di cardiologia all'ospedale di Baggiovara e al figlio Michele, l'accusa è tentato omicidio e lesioni personali aggravate, le indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di un movente passionale alla base del gesto, l'aggressione era avvenuta davanti all'abitazione del medico a Vignola, le indagini sono state complesse anche a causa della zona particolarmente isolata. Quindi questi sono gli sviluppi sulla questione dell'aggressione al primario, andiamo a leggere invece adesso un'altra notizia, Amedeo Laboccetta arrestato per riciclaggio sulle video lotteri, il principale imprenditore internazionale delle slot machine, re dei casinoi Caraibi, sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Roma, tra gli arrestati c'è anche l'ex parlamentare del PDL Amedeo Laboccetta, l'associazione per delinquere transnazionale, riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco online e sulle video lotteri, in manette anche l'imprenditore Francesco Corallo, indagati anche Sergio e Giancarlo Tulliani, suocero e cognato dell'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini. Gli arresti avvenuti anche all'estero sono stati eseguiti dallo scico della Guardia di Finanza in contemporanea perquisizioni in numerosi stati, parliamo di Antille olandesi, Regno Unito, Canada e Francia, oltre a sequestri di numerosi beni e conti correnti per centinaia di milioni di euro. L'inchiesta della magistratura romana riguarda un'associazione per delinquere transnazionale che riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco online e sulle video lotteri. Continuiamo sempre su ansa.it, è nato il bimbo di una delle donne respinte a Gorino, ricorderemo sicuramente la questione, all'ospedale ferrarese di Kona sta bene come la mamma e piccolo Michael, figlio della ventenne Joy Andrew, una delle migranti africane respinte dalla popolazione di Gorino a fine ottobre. La giovane con altre tre ragazze era stata ospitata nelle scorse settimane in una struttura a Ferrara, il padre di piccolo non era riuscito ad imbarcarsi dalle coste libiche, ma nei giorni scorsi Joy Andrew è riuscita a parlargli al telefono. Mi piacerebbe riprendere al più presto gli studi, così come vorrei imparare l'italiano, ho spiegato la neomamma, che in padria studiava Business Administration e parla piuttosto bene l'inglese, ma non racconterò a mio figlio di quella notte a Gorino, per me è stato terribile. Il 24 ottobre, ricordiamo, decine di cittadini del paesino sul Po trascinarono sulla strada i bancali prelevati nel porto per impedire l'arrivo dei profughi destinati all'ostello del paese, che era stato requisito dal prefetto. Poi scoprirono che si trattava di giovani donne africane. Parliamo adesso invece di uno scafista in naufragio con 700 morti, condannato a 18 anni di reclusione. Il capitano, 5 anni per il suo mozzo, è la sentenza del gruppo di Catania e Daniela Mone co-crea nei confronti di due presunti scafisti del grande naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 all'argo della Libia, in cui morirono oltre 700 migranti e soltanto 28 persone furono le persone sopravvissute, tra loro anche due minorenni che si sono costituiti parte civile. Imputati erano il capitano del Natante, il tunicino Mohamed Alimalek, 27 anni, e il suo mozzo siriano Mahmoud Bikit, di 25. I due sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma il capitano è stato ritenuto colpevole anche dei reati di omicidio colposo plurimo e naufragio. Gli imputati si sono sempre proclamati innocenti sostenendo di essere dei semplici passeggeri come gli altri migranti. La procura di Catania aveva chiesto la condanna di Malika a 18 anni e Bikit a 6 anni e il pagamento di un risarcimento di 3 milioni di Euro. Il mozzo ha accusato anche lui, Malek, di essere il comandante. Quest'ultimo sostiene di aver visto i componenti dell'equipaggio, ma di non averli individuati tra i sopravvissuti. Secondo l'accusa, il naufragio fu determinato da una serie di concause, tra cui il sovraffolamento dell'imbarcazione, le errate manovre colpiute da Malek che portarono il peschiereccio a collidere col mercantile King Jacob, intervenuto per soccorrere i migranti. Continuiamo la nostra segna stampa tornando sui giornali. e allora ci spostiamo sulla prima pagina del messaggero di oggi che pone in evidenza le parole di Gentiloni. Resto finché ho fiducia in cassa il primo sì alla Camera, il neopremier, 368 voti, 10 in meno rispetto a quelli di Renzi, l'aula semivuota e il Premier attacca, il Parlamento non è un social network. La durata, il provvisorio nel paese di Machiavelli, scrive Sebastiano Maffettone, se si leggono oggi le agenzie internazionali e i giornali stranieri sul governo Gentiloni, il messaggio è chiaro, durerà poco e quel poco sarà traballante. Sono commenti dietro cui si nasconde un filo logico, i ministri sono con qualche rara eccezione quelli di prima e lo stesso Premier Gentiloni ha rivendicato continuità con il governo Renzi, ma se proprio il governo Renzi è reduce da una batosta formidabile pochi giorni fa, che speranza può avere questo nuovo governo d'occasione? Quelli che erano d'accordo prima faranno più fatica a esserlo e quelli che invece non lo erano si sentiranno incoraggiati e staranno ancora più convinti, per cui il Duraminga internazionale ha le sue ragioni. Ma la logica ci lascia al buio se non è sostenuta dalla storia e le agenzie e i giornali stranieri non sanno quello che noi italiani sappiamo benissimo e che deriva dalla nostra storia, ragionano bene in astratto, in altre parole, ma ignorano il vero grande teorema italiano che recita non c'è nulla di più definitivo del provvisorio nel nostro paese, il tempo indeterminato sul posto di lavoro non è una variante indipendente, ma è un prolungamento del tempo determinato. Altri titoli su Il Messaggero, la fotonotizia ritrae la questione siriana, soldato siriano che sventola la bandiera ad Aleppo, per l'ONU ci sono state atrocità, Mosca parla di battaglia finita, Assad riconquista Aleppo, decine di civili però massacrati, decine di cadaveri lasciati in linee strade della città, l'ONU lancia un grido d'allarme e chiede di fermare la carneficina, Amnesty parla di crimini di guerra, mentre la comunità internazionale intima la Siria di tenere a freno i suoi soldati e garantire la protezione dei civili, ma a Damasco e Mosca si celebra la vittoria, l'operazione ad Aleppo è finita e il governo siriano ha il pieno controllo della situazione. La questione del ministro Fedeli, nel curriculum titolo inesistente, non ha la laurea, scoppia il caso, il ministro parla di un errore fatto in buona fede, onorata di ricoprire un ruolo così importante per il paese, non ha fatto quasi in tempo a pronunciare le parole di Prassi, Valeria Fedeli che già deve fronteggiare un attacco social. Le scalate in borsa, Vivendi al 12% di media, 7 guerra aperta con le contromisure di Fininvest, abbiamo parlato ampiamente della questione, così come abbiamo trattato la questione romana del Muraro, indagata che si dimette, altra tensione tra Grillo e Raggi, ma ci torneremo sicuramente in seguito i rifiuti, il nodo trasparenza, Virginia è la notte dei tabù violati, la polvere è nascosta sotto il tappeto, una notte che in politica evoca l'inganno, scrive Mario Aiello, diventa un mantello in cui rifugiarsi perché si teme la trasparenza, il primo paradosso delle dimissioni dell'assessore Paola Muraro sta proprio in questo, la giunta 5 Stelle ha scelto l'oscurità. Infine in taglio basso sui messaggero, l'inchiesta slot e riciclaggio, arrestati Corallo e la boccetta, anche di questa notizia abbiamo parlato, ricordiamo un turbinoso al giro di denaro tra l'Italia e le antille olandesi, un intricato sistema di società offshore che inghiottiva soldi destinati al fisco e che anziché finire nelle casse dello Stato, sono serviti per acquistare la casa di Monte Carlo, ereditata da Alleanza Nazionale venduta al cognato dell'ex segretario Gianfranco Fini, oltre che sui conti correnti di casa Tulliani. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa per noi, dopo ci occuperemo in particolare di Roma e dintorni e fra poco.